Salve a tutti giocatori e bentornati in un nostro nuovo video Portiamo finalmente la profile di Slifer con qualche aggiunta fuori dagli structure Allora ho voluto fare un mazzo molto retro Ci sono delle carte che per chi ha amato il gioco vecchio che dove saranno veramente tanta roba Mi sono sparite in realtà due carte che volevo inserire quindi vi dirò il nome della carta e le andrete a vedere Diciamo è un mazzo ovviamente for fun e non è competitivo anche per la struttura di come l'ho fatto Quindi è un mazzo che pesca molto, prova a pescare molto E andiamo a vedere come l'ho strutturato Giochiamo 3x Slifer Il drago del cielo Sappiamo tutti cosa fa I mosti normal li spacca Cioè i mostri vanno in attacco e perdono 2000 Se arrivano a 0 Vengono rotti Interruzione fortissima e poi prende 1000 per ogni carta della mano 2x Diabolos L'oscuro e il re della tana Carta fortissima Carta simbolo dell'era of darkness Intargettabile Intributabile E una volta per tutto possiamo calarla facilmente se tributiamo mosso scurità Possiamo tributare mosso scurità per mettere una carta dalla mano dell'avversario in cima e in fondo al mazzo Fortissimo Carta motore Anche se in realtà non è proprio motorissima Cioè la carta è fortissima l'elite Però non è il motorissimo del mazzo E se la cogliamo normal Per guadagnare Cioè il suo attacco originale diventa 1000 Una volta per turno possiamo tributare mosso scurità per prendere 3 carte trappola dal mazzo L'avversario ne sceglie una e ce la posiziona 3 per Arima L'abbiamo già visto Il nostro sercino per il re of darkness Scartiamo Addiamo la magia a terreno in mano E una volta per turno possiamo tributare mosso scurità per pescare O aggiungerci dal deck alla mano Mosso scurità con 2000 di difesa o superiore Doom Caliber Perché lui è un deckino carino Quando viene attivato l'effetto di una carta bisogna tributare questo mostro per negare l'effetto Poi ho messo Kiku L'istruttore di spettri Perché? Perché se Kiku è in campo Allora in serio non ci può rimuovere carte dal cimitero Cosa che è molto buona Perché dal cimitero abbiamo comunque delle ottime risorse da poter sfruttare In più quando lo infligge danno rimuove due carte al cimitero dell'avversario Volevo mettere lui E soldato cannone Ma soldato cannone mi è sparito Due per Machiura Il distruttore Cosa fa Machiura il distruttore? Prima era una carta molto forte Adesso E diciamo Ha avuto una bella Una bella Errata Diciamo che quando viene mandato all'altteriore dal cimitero Possiamo attivare una volta per turno una trappola dalla mano È molto forte per le carte che andremo a vedere Poi Io Diciamo che Ho provato a mettere lui Millennium Seeker Ma alla fine questo mi serve soltanto per target di Allur Giochiamo Magie 3 per Incrocio di anime Fortissimo Ci permette di evocare il nostro mostro utilizzando uno o più mostri dell'avversario Quindi possiamo fare l'interruzione anche quando all'avversario hai due mostri Noi abbiamo un mostro sul terreno Tributiamo tutto Caliamo Sliver Giochiamo Diabolos Se ce l'abbiamo Molto molto carina come combinazione Il 2 per Sempre di questa perché è molto pesante Anche perché spacca solo mostri scoperti Sparcaste carte sarebbe stato molto più forte Triplo L'Era of Darkness La carta la conosciamo tutti Quindi Molto forte Peschini Tripla giara Nella dualità Il mazzo non necessita Necessariamente della special di primo turno Questo è uno dei peschini più economici che potremmo andare a Prendere E quindi magari blocchiamo un attimo le special al primo turno Che alla fine con un mazzo contro non è che ci servono tantissimo E piano piano iniziamo a farci la board per calare Sliver nel turno dell'avversario Perché alla fine la mossa migliore è calare Sliver nel turno dell'oppo Triplo Allure Altro peschino Super budget Abbiamo tanti mostri di oscurità Quindi Molto buona Mono per Di Upstart Goblin Anche lei L'avversario di guadaglia 1000 E peschiamo una gatta Così giochiamo il mazzo a 30-39 Doppio back to the front Fortissimo Perché con la Lilith e con altre carte diventa veramente molto forte Possiamo ricadarci anche Sliver al limite Balista squad Carta fortissima Tributiamo un mostro Spacchiamo una carta sul terreno Super interruzione anche nel turno dell'avversario Possiamo tributare i mostri dell'oppo E spaccargli carte Carta bellissima Gialla della Copidicia Che cacchio ci fa? Eh no In realtà è buona Perché a parte Vabbè Peschi 1 Per Sliver Versa imprene In più se Cioè ho già fatto la combinazione Makiura Lilith E back to the front Magari hai Lilith al cimitero Normale Makiura Back to the front Entra Lilith Tributi Makiura Effetto Makiura Attivi questa dalla mano Quindi alla fine ci sta come carta Cioè a me piace abbastanza Poi volevo fare un deck L'ho detto Molto retro Molto peschino Sembra un po' Tanto Ritornare ai tempi della città dei duelli E delle prime volte in cui Yugi ha giocato Sliver A me piace tanto come soluzione Magari capisco che può piacere e non può piacere Però comunque ho voluto portare questa lista così E a me piace Poi alla fine mi sono trovato bene giocando per fun 3 per Copidicia Insaziabile Peschiamo 2 Assalziamo 2 trofees Attivare tutte e 3 Nello stesso turno Mentre abbiamo Sliver Praticamente la chiudi Un'altra cosa Potete Togliere Lui Perché alla fine non è così essenziale E metterci Carta che io purtroppo Mi ha spaiata pure quella La giara dell'Avarizia Ovvero Quella carta trappola Che ti mischia 5 carte nel cimitero Ne metti nel mazzo e peschi una Come l'anfora dell'Avarizia Soltanto che qui Puoi mischiarci anche le magie e le trappole Carta molto buona Soprattutto in questo deck Soprattutto con Sliver Perché ti permette di fare Un reflux di carte E di pescare anche buona Quindi è un'ottima soluzione Potete togliere benissimo questo Perché tanto non è fondamentale Io l'ho messo esclusivamente Perché non mi ritrovo Quella giara E l'ho messo anche perché È un target di Allur Ma più di così Non serve Quindi questo Era quanto Quindi questo era quanto E ricapitiamo un po' La fine del video Questa era la decklist di Sliver Una decklist carina Non troppo pretenziosa Non troppo costosa Potete mettere Tutti i peschini Che volete alla fine Ovviamente il mazzo sarebbe molto più forte Con carte tipo Già l'Extravagant Prosperity Però già lì il costo diventerebbe Troppo alto Alla fine Non neanche conviene Ho voluto optare per questa soluzione Perché a me piace molto È un ritorno al passato È una cosa molto buona Io spero che riuscirete Ad arrivare a fine video A sentire queste parole Avrei dovuto dirle Magari all'inizio Però comunque Non è che io mi studio i video Alla fine Dico le cose come mi vengono Bene Noi ci vediamo nel prossimo video Spero che questo vi sia piaciuto Un saluto a tutti quanti E al prossimo video